Ci pensi mai al fatto che sei vivo, che respiri, che abiti su un pianeta dove ci sono delle piante che rilasciano l'ossigeno di cui hai bisogno e tu possiedi degli organi che in milioni di anni si sono sviluppati proprio per darti la possibilità di assimilarlo e beneficiarne. Ci pensi mai a questa magia e a tutte le altre che ti circondano in ogni istante della tua esistenza? Io credo sia importante farlo, almeno di tanto in tanto. Siamo così presi da un'infinità di questioni irrilevanti, bombardati costantemente da intrattenimento e frivolezze, immersi in diatribe senza alcun senso e che non portano a nulla di veramente utile, da attraversare il nostro presente come spettri, dando così per scontato ciò che è tutto fuorché quello, a partire dalle piccole cose dal poco e in lento. Un letto caldo e pulito non è scontato, una giornata di sole non è scontata, un pranzo buono e abbondante non è scontato, una passeggiata nel bosco non è scontata, un abbraccio sincero non è scontato, la risata di un bambino non è scontata, fare l'amore con la persona che ami non è scontato, una serata tra amici non è scontata, l'affetto di un fratello o una sorella non è scontato, la compagnia di un animale non è scontata, avere del tempo per coltivare le proprie passioni non è scontato, la lettura di un buon libro non è scontata. Questo sistema ci ha riempito la testa con una valanga di bisogni indotti e una serie di convinzioni velenose. La competizione è alla base della società e il dio denaro muove il mondo. Conosciamo il prezzo di tutto e allo stesso tempo non sappiamo più cosa ha davvero valore. Ci hanno insegnato la magnificenza delle cose grandi, del tanto e del veloce, a questo bisogna ambire. Ma più passano i giorni, più scopro questo pianeta, più accumulo esperienze e più mi rendo conto che è l'esatto opposto, che tutto quello che ci è stato insegnato è falso e ci porta solo a dare per scontato quanto di più prezioso abbiamo a disposizione. Le piccole cose, il poco e il lento, è qui che si trova il valore e non c'è nulla di scontato. Grazie.